Tra poco meno di un mese si vota per rinnovare le amministrazioni comunali in molti comuni d'Italia. In provincia di Frosinone tre hanno più di 15 mila abitanti. Noi cominciamo a parlarvi di Sora mettendo a confronto i candidati a sindaco nel numero 236, anno sesto, di Apporte Aperte. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. È veterinario alla ASL, ha 63 anni e sindaco uscente di Sora in consiglio comunale dal 2001. È stato consigliere e assessore provinciale alle politiche del lavoro e tra i dirigenti provinciali del nuovo centrodestra non ha voluto simboli di partito. A sostenere la sua rielezione, benvenuto al sindaco Ernesto Tersigni. Buonasera. È colonnello del 41esimo reggimento Cordenons, distanza a Sora, a 59 anni, alla prima esperienza politica, coordinatore comunale della lista Noi con Salvini. Per mantenere il simbolo ha mandato all'aria l'intesa provinciale con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Benvenuto al colonnello Antonio Vitale. Buonasera a voi. È medico anestesista all'ospedale di Sora, ha 59 anni. È stato segretario cittadino del Partito Popolare. Come presidente dell'Associazione Dipendenti Ospedalieri ha dato vita a diverse iniziative in difesa dell'ospedale cittadino. Impegnato nel volontariato, più volte è stato in Africa. Benvenuto al dottore Augusto Vinci Guerra. Buonasera. È insegnante e architetto, ha 49 anni, è stato assessore all'urbanistica nella giunta del compianto sindaco Cesidio Casinelli. Nella scorsa tornata si è candidato entrando in consiglio comunale, di fatto come capo dell'opposizione ha inventato la piattaforma civica. Benvenuto al professore Roberto De Donatis. Grazie, buonasera. È dipendente del Dipartimento della Protezione Civile, ha 40 anni, 10 dei quali vissuti a Sora. Alla prima esperienza politica è stato selezionato attraverso le comunarie del Movimento 5 Stelle, la lista che lo sostiene. Ha ottenuto la certificazione e quindi il simbolo. Benvenuto al dottor Fabrizio Pintori. Buonasera. È responsabile commerciale di una società di sviluppo informatico, ha 57 anni, anche lui ha fatto parte dell'amministrazione del compianto sindaco Cesidio Casinelli, ricoprendo l'incarico di assessore alla cultura. Ha riunito intorno a sé le varie anime della sinistra. Benvenuto al dottor Bruno Lapietra. Buonasera. Questo numero di apporte aperte si svolge seguendo le norme della par condicio. Non ci saranno quindi sms, non ci saranno contributi da casa. Stesse domande per tutti quanti i candidati, stesso tempo per tutti. Due minuti per la risposta, poi ci sarà per ogni argomento un giro di repliche e lì si avranno 30 secondi per replicare. Al termine un minuto di appello al voto. Si comincia a rotazione in base all'estrazione nella lista, all'ordine di apparizione nella lista. Comincia Ernesto Tersigni. Due minuti per spiegarci che città lascia dopo cinque anni. Sì, dopo cinque anni io lascio sicuramente una città migliore di come l'ho trovata. E' indubbio che la concretezza dei fatti lo dimostra che la città è cambiata. Noi siamo arrivati al comando dell'amministrazione del comune di Sora con una situazione, io ritengo disastrosa, De Donaldi si mi dirà di no, ma questo è frutto di uno scambio di opinioni che dura ormai da cinque anni. Io ricordo a tutti che abbiamo trovato 5 milioni e 300 mila Euro di debiti, cioè di massimo scoperto sul conto corrente, abbiamo pagato 3 milioni di debiti fatti dalla precedente amministrazione, siamo arrivati a pareggiare il conto, non abbiamo debiti, abbiamo abbattuto i pagamenti, siamo arrivati a quattro mesi da un anno che c'erano, al tempo in cui siamo arrivati e nonostante abbiamo tolto 800 mila Euro l'anno di mutui, praticamente quando siamo arrivati il comune pagava 1 milione e 800 mila Euro l'anno, adesso si paga 1 milione di Euro l'anno, quindi praticamente una situazione amministrativa sicuramente cambiata, cambiata in meglio, con tante opere fatte, qualcuno dice che non abbiamo fatto nulla, io ho fatto un piccolo filmato di 6 minuti dove c'è una carrellata delle più grandi opere che abbiamo fatte, non ho il tempo di dirle ma i cittadini lo sanno, la cosa di cui più vado fiero, sono sicuramente, qui si parla di green economy, noi abbiamo fatto quasi 1 megawatt e 3 di fotovoltaici, a costo assolutamente zero, altro che green economy, praticamente il comune incasta circa 200 mila Euro l'anno di benefit senza per questo soltanto 1 Euro e questo all'inizio del nostro mandato, avrò un modo di dire altro. Questo è quello che ritiene Ernesto Tersigni di avere fatto in 5 anni, colonnello Vitale, che città lascia l'amministrazione Tersigni dopo 5 anni di governo? Due minuti per lei. Buonasera a tutti, io sono ultimo a poter giudicare, saranno gli elettori penso a giudicare come è stata lasciata la città, noi siamo gli ultimi arrivati sul territorio, abbiamo la necessità di portare avanti un discorso di onestà, trasparenza in realtà nei confronti degli elettori per cui in questo momento abbiamo presentato un nostro programma e quando saremo e se saremo nel Consiglio Comunale, valuteremo ciò che troveremo e opereremo in modo da, in maniera adeguata per eventualmente risolvere quelle criticità, ma sicuramente se il sindaco ha fatto bene, non metteremo bocca in quelli che saranno stati gli effetti positivi dell'amministrazione del sindaco Tersigni. Noi andremo a vedere le criticità, quindi poi a quel punto discuteremo e valuteremo e daremo le soluzioni per poterne risolvere. Grazie. Bene, in un minuto, Vinci Guerra, a questo punto chiediamo a lei come ritiene che sia stata lasciata questa città dopo 5 anni di amministrazione del sindaco Tersigni. Prego. Grazie dell'invito innanzitutto e grazie dell'opportunità che ci state dando a tutti, ovviamente. Ma sicuramente Sora è una città che è, si potrebbe dire, dormiente. Abbiamo perso abitanti, abbiamo perso attività produttive, abbiamo perso i giovani. Io sono padre di tre figlie, le mie tre figlie, due già non vivono più a Sora e una terza la perderò perché si allontanerà dalla nostra bella città, adesso a fine anno. E questo significa che è una città che non ci dà in questo momento un'idea di futuro e di possibilità di lavoro e di impiego per i nostri figli. E già questo mi sembra un grosso problema da dover risolvere. Un po' tutti abbiamo parlato di questa crisi, che non è una crisi generazionale perché i nostri figli sono i bambocci e non vogliono studiare. No, sono ragazzi che purtroppo devono andare altrove per trovare le opportunità che purtroppo Sora non dà più. L'ideale sarebbe far ripartire e farlo ripartire con un'idea nuova, un'idea di dare la possibilità a questi giovani di governare. Nel mio gruppo è sorto proprio questo, il mio arrivo in questo agone amministrativo è stato proprio quello, quello di trovarmi un gruppo di giovani e di essere attorniato da questo gruppo di giovani che hanno fatto il 90% del lavoro per questa preparazione alla campagna elettorale. Io ringrazio loro. Ecco, Sora io non la vedo in una prospettiva, diciamo, posteriore, ma la vedo in avanti. Io la vedo piena di giovani che riniziano a riprendere in mano la situazione. La situazione. De Donatis, abbiamo detto che è stato in Consiglio Comunale, nei banchi dell'opposizione in questi cinque anni e allora due minuti per spiegarci che città sta lasciando Ernesto Tersigni. Ci lascia essenzialmente una città piena di macerie, non solo dal punto di vista finanziario perché sento di poter essere assolutamente in contrapposizione per quanto espresso prima dal sindaco sia per quanto riguarda la partenza perché al termine del mandato del compianto sindaco Cisidio Casinelli che voglio ricordare con rinnovato sempre amore e sentimento, il comune di Sora ebbe un encomio dal Ministero delle Finanze proprio per essere un comune virtuoso in quanto i conti erano in ordine. Il sindaco come sempre con la sua campagna demagogica fa confusione tra anticipazione di cassa e debiti. L'anticipazione di cassa è una necessità a cui gli enti locali sono costretti per mancanza di trasferimenti dagli enti superiori e quindi il comune era imperfetta, anzi bisogna dire che quando si è insediato l'amministrazione Casinelli nel 2006 ha trovato ben due milioni di debiti fuori bilancio prodotti da una gestione scellerata che faceva capo e riferimento alla società ambiente. Quindi al di là delle considerazioni sulle problematiche finanziarie che abbiamo trovato allora e che ci lasceranno sicuramente in futuro, noi dobbiamo dire essenzialmente che tutte le opere programmate e progettate da questa amministrazione appartengono a un'autoreferenzialità, un modo di gestire la cosa pubblica che ha avuto come elemento solamente l'elemento decisionale avveniva all'interno del cerchio magico senza nessun confronto con l'esterno. Parlo della pubblica illuminazione per 20 anni che è stata votata 9 contro 8, 9 consiglieri di maggioranza contro 8 hanno vincolato il bilancio dell'ente per 20 anni a 600 mila euro all'anno. Parlo dei lavori sulla sicurezza stradale, parlo della gestione dei impianti sportivi, parlo anche di tante altre situazioni come per esempio la programmazione che hanno fatto sul centro anziani che è stato un progetto creato in una location assolutamente non adeguata e di tante altre cose che avremo modo di parlare durante la campagna elettorale. Due minuti per il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Fabrizio Pintori. Che città lascia questa amministrazione? Sì, prima di rispondere alla domanda vorrei cogliere l'occasione visto che siamo tutti e sei candidati qui riuniti per questa importante manifestazione per invitare chi ancora non lo avesse fatto a sottoscrivere questa dichiarazione di impegno per evitare che la propaganda elettorale venga fatta al di fuori degli spazi previsti, che la città venga lasciata in uno stato decoroso. Quindi il foglio sta qui, poi a fine trasmissione chi vuole potrà ancora firmarlo. Per quanto riguarda le condizioni della città, la città è sotto gli occhi di tutti, non spetta a me dire com'è la città, spetta ai sorani. Fra qualche settimana si vota e i sorani tranquillamente potranno decidere se premiare l'amministrazione di Tersigni per quello che ha fatto per la città oppure no. C'è da dire che certamente ci sono alcune opere che, come posso dire, lasciano qualche dubbio, mi riferisco alla traversa sul fiume Liri, la traversa mobile, la cosiddetta diga, che non ce n'era traccia nel programma elettorale del 2011 ed è un'opera che francamente non so a chi possa giovare. Per quanto riguarda poi i conti c'è da dire che l'amministrazione di Tersigni ha fatto un largo uso, a differenza di altri comuni italiani, del cosiddetto finanziamento tramite terzi e quindi sia per l'illuminazione pubblica ma anche per altri contratti, penso al centro anziani, penso anche agli stessi impianti fotovoltaici. Sono contratti di finanziamento tramite terzi che vanno a indebitare le future generazioni, quindi decideranno tranquillamente i sorani. Io personalmente non sono soddisfatto della città, se voi lo siete avete la possibilità di ridare fiducia a Tersigni oppure di cambiare. Grazie, due minuti a questo punto per il dottor Bruno Lapietra, che città lascia questo governo di cinque anni che sta per concludersi? Due minuti per lei. L'amministrazione di una città come Sora non è una cosa semplice, io ho amministrato per cinque anni, l'ho fatto con difficoltà e con grande passione. Sono convinto che realizzare le cose che sicuramente il sindaco ci propinerà durante questo incontro è quasi inevitabile, cinque anni di amministrazione impongono di realizzare delle cose, ma molte altre cose sono state tenute in sospeso, non realizzate o realizzate male. Mi riferisco ad alcuni punti dolenti, che hanno un valore oltre che pratico e diretto, anche simbolico, perché mi preoccupa questa trascuratezza nella esecuzione di opere già cantierate o progettate o quantomeno in fine realizzazione. Mi riferisco, il parco che era stato finanziato con finanziamento, fra l'altro che io cercai di reperire dietro San Rocco, quindi proprio vicino al quartiere storico del sindaco, che era un intervento fatto per consolidare il regime frannoso della montagna e che prevedeva un'area verde a servizio del quartiere di San Rocco. La diacente Ponte Lamellare, che viene chiuso per analogia, ancora oggi ho scritto diversi articoli, ma in maniera interlocutoria, molto civile e tollerante, dialetticamente disponibile ad ogni possibile comprensione di eventuali guasti tecnici. Viene chiuso un ponte perché un altro crolla. Questa cosa, al di là dello svantaggio, del fastidio che si procura alle persone, che senso ha? Perché non viene spiegato ai cittadini qual è il problema? Perché non viene risolto? Sono passati due anni con un ponte chiuso senza motivi. Quel giardino che è realizzato, finito, non viene inaugurato e così via. Poi parleremo anche del centro commerciale Serapiti, che resta una delle grandi zone sospese della città. Grazie, vediamo di risparmiare tempo e partiamo subito con le repliche. 30 secondi se li deve far bastare Ernesto Tersigni. L'onestà, qui il copyright dell'onestà non ce l'ha nessuno. Io posso dire che sono stato un sindaco onesto, lo dico velocemente. Poi le cose Pintori. Pintori confonde, forse non ha studiato bene, il finanziamento tramite Tersi che è cosa diversa dal contratto di disponibilità. Sono due cose diverse. Abbiamo fatto un finanziamento tramite Tersi che, contrariamente a quello che dice Deutonatis, non è che stiamo spendendo 600 mila Euro in più per la pubblica illuminazione, stiamo spendendo 100 mila Euro in meno l'anno e avremo una illuminazione efficace, con una manutenzione velocissima, 24 ore massimo. Per quanto riguarda... 24 ore massimo in tempo... Per contratto. Per contratto. Poi ci sono le penali, ci saranno le penali. I 30 secondi sono scaduti. Vitale, 30 secondi per replicare a quello che ha sentito. In questo momento abbiamo sentito pro e contro di come è stata la gestione. Noi siamo gli ultimi, ripeto. Ci impegniamo con i cittadini attraverso le nostre tre parole d'ordine che sono nell'attra trasparenza e onestà per mettere a posto quello che non è a posto in questo momento da solo. Sono tante le cose. In questo momento da solo manca il lavoro, manca la produttività, manca l'esperienza. Ci sono dei progetti in corso per quanto riguarda i servizi, i i consorzi intercomunali per cui lavoreremo su quello. Grazie. 30 secondi per la replica del dottor Vinci Guerra. Sicuramente cominciano ad uscire le cifre, delle cifre stranissime a cui noi abbiamo un attimo anche dato peso riguardo per esempio adesso usciranno i due problemi sulla sicurezza delle scuole. È impensabile oggi spendere un milione e mezzo di euro, un milione e due di euro per rifare una scala in una grossa scuola. È impensabile avere un progetto di 5 milioni di euro per una scuola, la Facchini a Sora, dove non si sa nulla. Ecco, l'informazione. Nessuno dubita dell'onestà, ma sicuramente la informazione è mancata completamente in questa amministrazione. Grazie. 30 secondi per la replica di Roberto De Donatis. Sappiamo tutti che la gestione privata dei servizi pubblici è fallimentare, lo dimostra quello che accade con Acea. Lo stesso avverrà a Sora con la gestione della pubblica illuminazione, che poteva essere invece come le tecnologie che progrediscono continuamente e consentono, poteva dare dei tesoretti la possibilità di gestire un patrimonio a vantaggio di un bilancio sempre in sofferenza per erogare migliori servizi, vista la carenza e le tasse così elevate che paghiamo. Grazie. 30 secondi per la replica di Fabrizio Pintori. Sì, qui non è in dubbio l'onestà del sindaco Tersigni, però c'è da dire che la gestione dal mio punto di vista lascia un po' a desiderare, perché voglio dire, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica si pagherà un canone di circa 600 mila euro anni per 20 anni e alla fine dei 20 anni avremo un impianto di illuminazione tecnologicamente inadeguato e arretrato e a 20 anni per 600 mila euro sono 12 milioni di euro che pagano i Sorani. Grazie. 30 secondi a questo punto per la replica del dottor Bruno Lapietra. Prego. Io ogni volta che sento parlare di debiti del comune penso sempre ai misteri della fede, ogni volta che si tratta questo argomento l'amministrazione in carica parla di quello che ha trovato, ci siamo ripromessi di non fare una campagna demagogica, retorica, populistica, le anticipazioni di casse che ha lasciato l'amministrazione Casinelli sono una cosa ben diversa rispetto al debito. La diga, caro Ernesto, è una cosa gravissima, della quale parleremo dopo con calma, però è un problema che resterà aperto nella città per molto tempo. Grazie. Rapidamente, secondo argomento. naturalmente sta alla vostra abilità poi portare la discussione su quello che più vi piace, ma il tema è di cosa ha bisogno questa città, come ritenete si possa realizzare nel caso in cui diventaste sindaco. Due minuti comincia a questo punto Antonio Vitale. Prego. Sì, la città in questo momento ha bisogno essenzialmente di alcune cose fondamentali. Prima di tutto il lavoro che in questo momento manca sola, la sicurezza che in questo momento manca sola è sicuramente una migliore gestione di alcuni servizi e dell'organizzazione funzionale proprio del comune. Cioè il comune è il cervello del funzionamento della città, se il comune funziona male occorre a questo punto dargli degli allegamenti, per cui prevediamo un riordinamento del comune, perché è il comune che dà la possibilità al cittadino di lavorare. Questo cosa significa? Significa revisione delle tasse, revisione dei servizi, in particolare dei servizi sociali e dei servizi a una persona, un riassestamento per quanto riguarda il piano del traffico urbano e degli trasporti pubblici che in questo momento non sono integrati. Quindi stiamo andando su progetti che non costino a un cittadino sorano, ma che rappresentino poi successivamente una facilitazione. In questo può esserci un discorso di progettazione, per esempio con il fatto che il comune di Sola è interessato a un GAN che in questo momento ha il suo punto di forza nel discorso intercomunale. Cioè ogni comune mette le sue risorse del territorio a disposizione per poter creare un circuito economico in modo da creare progetti che alla fine del 2020 questi progetti siano di autosostentazione, qui si possono autosostenere e creare un circuito economico in cui il territorio è la parte predominante e il cittadino e le persone che sono dentro, in particolare i giovani, possono lavorare all'interno della propria comunità. Questo è qua. Poi chiaramente andiamo su un discorso delle tasse, che è un discorso nazionale, che le tasse, vi vedete le tasse che attualmente sono su una città, spendendo meno e gestendo in maniera più adeguata l'amministrazione. Grazie. Due minuti su questo argomento per il dottor Vinci Guerra. Sora, come dicevo appunto prima, soffre in questo momento di carenza di lavoro, di carenza di attrazione del lavoro. Sora, in questo momento, le due grosse realtà lavorative sono l'ospedale e le scuole. Questi sono i due momenti più importanti lavorativi su questa situazione. E probabilmente sono anche i due fulcri, sono le due idee su cui lavorare. Oggi parlare, io sono medico, lavoro in ospedale, ho fatto insieme, devo dire a tutti, trascinandoli alcune volte, però devo dire che tutti poi hanno collaborato nella difesa del nostro ospedale. Resta un polo di attrazione. Deve diventare a questo punto addirittura un volano per la ripresa economica. Un altro momento però sono per esempio le scuole, ma di ogni ordine e grado. Qua mi lascia un po' dubbioso certi pensieri che la nuova amministrazione vorrebbe fare. Abbiamo perso un'università che comunque dava dei buoni risultati. Ma non abbiamo rimessa. Però abbiamo ristabilito un contatto con l'Università di Cassino sulla pubblica amministrazione. Io penso che oggi Sora non ha bisogno di una facoltà della pubblica amministrazione. Sora ha bisogno oggi di una facoltà che interessi il territorio, che possa interessare il turismo, che possa interessare la green economy. Tutti stiamo parlando di questo. Prima l'amico Antonio parlava del GAL, del PSR. Tutti i momenti che vanno a focalizzarsi su quello che può essere la cosa più importante. La formazione. Una formazione che non vede solo le scuole, ma vede ogni ordine e grado. Le scuole diventano momento centrale. Ma anche il comune. Nello comune si può fare formazione. Con i commercianti si può fare formazione. Ecco da come si può ripartire. Incominciando a ristudiare veramente tutti quanti. Grazie. Le norme sulla par condicio non ci consentono di fare dei primi piani particolari o dei controcampi. Certo è che vi posso garantire uno spettacolo vedere il sindaco Tersigni come si sta letteralmente contorcendo durante le risposte degli altri candidati. Uno spettacolo che è solo per i presenti. Due minuti per De Donatis. Prego. Amministrare una città di 26 mila abitanti è sicuramente un fatto estremamente difficile. Io credo che Sora abbia bisogno di un metodo diverso. Noi abbiamo colto l'occasione con questa campagna elettorale per iniziare a programmare un metodo diverso che parte dall'aver sottoscritto accordi solamente programmatici, linee programmatiche che poi abbiamo voluto sviscerare, declinare attraverso il lavoro svolto da professionisti non candidati nelle nostre liste che hanno lavorato sul programma in maniera lacre, su tre tavoli programmatici che alla fine hanno prodotto il nostro documento programmatico. Noi riteniamo che questi tavoli debbano essere poi la spina dorsale di un'azione amministrativa che non può essere lasciata solamente a coloro che vengono eletti o che vengono nominati assessori all'interno dell'Aggiunta. Perché ogni assessore deve poter lavorare con un'equip di professionisti che gratuitamente, semplicemente per la passione verso la propria città, si mettono a disposizione per cercare di far sì che quel programma che è stato messo in piedi possa essere portato a termine senza scappatoie che avvengono di solito durante i tempi dell'amministrazione, soprattutto per motivi di natura politica esterne alle necessità della città. Noi siamo fermamente convinti di questo, che il processo decisionale vada aiutato da questi professionisti, ma anche da un tipo di iniziativa che provenga dal basso attraverso la modifica dello statuto comunale e l'istituzione del cosiddetto comitato di quartiere. Comitato di quartiere che poco prima, in sedute che devono svolgersi, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, possano dare il loro contributo per poter presentare all'interno del Consiglio Comunale quelle che sono le istanze che provengono dal basso e trovare una sintesi all'interno del documento programmatico già discusso e approvato. Grazie. Di che cosa ha bisogno questa città? Come ritenete si possa realizzare nel caso di Ventaste Sindaco? Due minuti per Fabrizio Pintori. Ma come vogliamo che diventi Sora? Ce l'hanno detto i Sorani, noi siamo anni che giriamo per i vari quartieri di Sora con la campagna tra la gente e con la gente, abbiamo fatto gazzibbi un po' in tutti i quartieri. Ecco, quello che ci chiedono i Sorani è che venga fatta finalmente una programmazione di lungo termine. Quindi, per quanto riguarda la città, chiedono questa pianificazione, una programmazione adeguata. Chiedono che non si cerchino più finanziamenti così, per opere non coordinate tra di loro. Ci hanno chiesto di rilanciare la vocazione commerciale della città, che in questi anni di crisi basta girare per il centro storico, o anche in periferia si vedono tanti locali con la scritta vendesi e affittasi, ma che sono lì da mesi, se non anni, queste scritte. Quindi rilanciare la vocazione commerciale della città, ma soprattutto puntare sulle attività produttive. Sora abbiamo la fiera del mobile, perché ovviamente il comparto del mobile è ben presente, è radicato nel territorio, ma c'è anche il tessile. Ma detto questo, bisogna attirare le attività produttive, quindi lavorare in sinergia, favorire lo sviluppo, il radicamento delle piccole e medie imprese. Ad esempio, noi siamo contrari ai grossi centri commerciali, perché riteniamo che questi porteranno alla chiusura di tanti piccoli esercizi che verranno messi in difficoltà, con ovviamente persone che poi non godranno di quelli che sono gli ammortizzatori sociali, che invece godono gli operai delle grosse imprese o i dipendenti delle grosse imprese o gli operai delle grosse fabbriche. Quindi questo è quello che ci chiedono i sorani, programmare nel lungo termine, porre le basi per uno sviluppo che sia duraturo nel tempo. Grazie. Due minuti per raccontarci di che cosa ha bisogno la città di Sora e come ritiene che si possa realizzare invece il dottor Bruno Lapietra. Prego. Allora, mi tocca svolgere un ruolo che non mi sarei mai aspettato di dover svolgere, quello di focalizzare l'interesse dello sviluppo della città su un tema molto più importante dell'occupazione, che è quello della detassazione. Non si può sperare di avere ulteriore incremento occupazionale se non si riduce drasticamente il carico fiscale, quello che ovviamente compete alla macchina amministrativa comunale. Come si può realizzare questo? Perché altrimenti resterebbe una proposta demagogica e di facile intuizione. Bene l'investimento sul fotovoltaico. Qualcuni in città del nord hanno pensato bene di realizzare il fotovoltaico e di far applicare agli enti gestori detassazioni rispetto alle bollette. Importante è la detassazione dei rifiuti, che si può fare ovviamente non d'imperio, ma attraverso una riprogrammazione del bilancio contenendo la spesa pubblica. Altrettanto fondamentale, è importante, perché la gente oggi, più che il terrore dei ladri, ha terrore del postino. Perché quando arrivano le bollette dell'acqua, della luce, diventa un problema serio per il cittadino. Se non ci sono disponibilità finanziarie per i consumi, l'economia non può ripartire. Allora, l'acqua pubblica non significa soltanto cacciare un gestore, significa creare una società, come previsto dall'articolo 114 del testo unico degli enti locali, che consideri l'acqua un bene da condividere con i propri cittadini, ma non per trarre profitto, ma applicare tariffe sociali. Io credo che queste cose diano, potrebbero dare, se applicate un ulteriore vero profondo e duraturo slancio all'economia, che è vessata, perché oggi le attività produttive non possono vivere. È inutile pensare di creare per loro uno slancio delle facilitazioni, perché al momento in cui pagano 5.000, 6.000 euro di tassa di rifiuti, le piccole imprese, gli artigiani e i cittadini muoiono. Economicamente la città muore in questo senso. Grazie, due minuti per raccontarci di cosa ha bisogno la città di Sora per il sindaco Ernesto Tersigni. Innanzitutto, velocemente, spendo il 50% del tempo per chiarire alcune cose. Vinci guerra, testuali parole potete ascoltare, alla Facchini non si fa nulla, alla Facchini è la scuola media, una delle più prestigiosi di Sora, mi fa piacere che hai questo giudizio di questa scuola. Per quanto riguarda poi Bruno Lapietra, Bruno, scusami, quella non è una tiga, è una traversa, quindi diamo il nome giusto alle cose giuste. Ti traverserò molto subito. Sì, grazie. L'università, noi abbiamo riaperto l'università, era morta l'università con le scienze delle comunicazioni, abbiamo attivato una facoltà che porterà la laurea in giurisprudenza. Lasciamo perdere il nome, ma dopo il triennio ci si potrà lavorare in giurisprudenza oppure in economia e commercio. Quindi sono due lauree, non soltanto destinate alla pubblica amministrazione. Il 5 Stelle, la loro politica è quella di distorcere le notizie, eccetera. Torno un'altra volta il fatto che i 600 mila euro, caro Fabrizio Pentori, il comune di Sora oggi paga 700 mila euro di Enel, chiamiamolo così così si diceva di scronata casa. Da domani ne pagheremo 600 mila euro, quindi 100 mila euro di meno, quindi non è che stiamo mettendo soldi in più, si pagherà di meno l'energia e l'impresa infestirà 5 milioni di euro. Naturalmente l'impresa come si fa a ristorare? Si risparmiando solo nell'energia elettrica, quindi attuando delle modifiche. La green economy è questa qua, quindi loro parlano di green economy e poi non la vogliono applicare. L'acqua pubblica. Sull'acqua pubblica De Donatis ne sa molti di più di me perché nel passato con l'amministrazione di Casinelli loro ne sanno molto più di me perché io sono entrato adesso. Poi De Donatis, non tutti sanno che è stato assessore ai lavori pubblici della città di Sora, non tutti lo sanno. Io le invito adesso, dopo di parlare a lui, a dire un'opera, una opera finanziata e conclusa dalla sua amministrazione, cioè un finanziamento portato a Sora dalla sua amministrazione. è pari a zero. Grazie. Il giro di repliche. 30 secondi per replicare. Vitale. Adesso abbiamo sentito solo dei numeri, dei dati, delle contestazioni. Quello che veramente poi ci sia attualmente sul Comune lo possiamo soltanto vedere nel momento in cui saremo sul Comune e al di là dei progetti che già si conoscono e chiaramente già sono stati illustrati dall'altro, come per esempio il progetto della cosiddetta DIGA del cosiddetto progetto LIVIS sia il progetto dell'illuminazione tecnica saranno valutati dal punto di vista contrattuale dovremmo andare a vedere e verificare effettivamente quali sono a contratto le norme, le penalità e quando è previsto. Grazie. 30 secondi per la replica di Augusto Vinci Guerra. Facchini, ho parlato di 5 milioni d'euro, c'è un grosso progetto questo era il discorso sulla Facchini punto andiamo avanti discorso invece importante è il problema dell'amministrazione noi abbiamo un'amministrazione che deve essere facilitatrice facilitatrice di ogni cosa che deve aprirsi verso la gente verso le persone questo deve fare semplicemente l'amministrazione non c'è altro l'amministrazione Tersigni questa cosa non l'ha fatta. Grazie 30 secondi per la replica di Roberto De Donatis Ricordo al sindaco che come assessore ai lavori pubblici l'amministrazione Casinelli ha avuto finanziamenti per circa 7 milioni di euro per ristrutturare tutte e risanare tutte le scuole che erano in dissesto sismico mi riferisco all'Achille Lauro mi riferisco all'Arduino Carbone mi riferisco alla scuola di Campopiano abbiamo avuto un finanziamento di 990 mila euro per risolvere una problematica che sta a cuore di tutti i cittadini sorani come la strada di accesso della Santissima d'Italia dell'ospedale che voi non siete stati capaci di portare a termine come tante altre cose che avete mandate nel dimenticatore grazie De Donatis 30 secondi per la replica di Fabrizio Pintori per quanto riguarda l'illuminazione pubblica è un progetto che ovviamente sta molto a cuore all'amministrazione di Tersini la prima volta che lo portarono in consiglio comunale diedero la possibilità di fare delle osservazioni non le abbiamo fatte le ha fatte anche l'opposizione e il progetto venne ritirato per poi approvarlo un mese dopo per quanto riguarda l'illuminazione comunale rifarla noi non abbiamo detto di no ma ricambiare le modalità e di verificare se ci sia la possibilità di ottenere un prestito dalla Cassa Depositi e Prestiti per pagare ovviamente un mutuo più leggero grazie e i 30 secondi di replica per Bruno Lapietra colgo l'occasione per ringraziare il sindaco Dersini della precisazione terminologica traversa anziché dica resta il problema però caro Ernesto che ha realizzato un'opera inutile pericolosa sbagliata con una condotta fognaria che insiste 200 metri prima dello sbarramento che scarica direttamente senza andare in depurazione per cui quello che realizzerà in effetti quella traversa sarà l'accumulo di lascia immaginare ai cittadini sorani di cosa e a questo punto i 30 secondi se li faccia bastare il sindaco per la replica di Ernesto Tersini la dimostrazione per Detonatis è che non ha saputo citare un'opera piccole opere se le cito io tutte le piccole opere arriviamo a 30 milioni di euro dico soltanto che ultimamente abbiamo avuto un finanziamento di 5 milioni che se la sommo a quello del Sivoncelli sono già 6 milioni di 200 mila euro ma bastano queste due loro si vantano di aver avuto 7 milioni poi in campagna elettorale vi faccio vedere comunque ha dimostrato che non ha potuto dire un'opera una sola opera di un certo spessore 3 scuole certo 200 50 vabbè fai le scuole fate le scuole queste se ne metto 50 io per quanto riguarda Bruno Lapietra sono scaduti 30 secondi ce la fa 5 secondi cosa gli vuole dire alla pietra è una distinzione terminologica o no c'è o non c'è questa opera non c'è con Bruno scherziamo allora noi ci fermiamo per la pubblicità il tempo di qualche spot non vi muovete un minuto e torniamo di nuovo in diretta su Teleuniverso seconda parte di A Porte Aperte sempre in diretta su Teleuniverso stiamo parlando delle elezioni comunali di Sora e allora velocemente Acea nuove ato del gas gestione dei rifiuti quali sono le vostre posizioni su questi temi due minuti comincia vinci guerra eh tanto sono 4-5 argomenti che solo un argomento avrebbe la necessità di fare un incontro Acea qualcuno ne ha parlato sicuramente bisogna rivedere non tanto la risoluzione del contratto ma bisogna rivedere come hanno lavorato io sono convinto che tutti i sindaci del territorio dovrebbero fare un minimo di mea colpa un esame di coscienza perché alla fine dovevano probabilmente governarla di più questa Acea in fondo Acea chi è? è un soggetto privato ma possibile una serie di soggetti pubblici non potevano fare la stessa cosa che fa invece un soggetto privato che continua a chiedere soldi che continua a chiedere e avvessare i nostri cittadini i nostri abitanti di Sora ma anche di tutta ormai di tutta la provincia qualcuno ha cercato tenta di risolvere il problema risolvere il contratto qualcuno diciamo noi siamo dell'avviso che comunque va un attimo mantenuto ma va controllato ma controllato nei termini di attività che ci vengono a proporre e a produrre sicuramente Sora io non conoscevo molto le zone periferiche anche se vado molto in giro poi specialmente in questo momento mi sono accorto che Acea lascia dopo dieci anni dei tubi scoperti sulla selva dopo sette otto anni alcuni dopo due anni è una cosa inverosimile non è possibile cose di questo genere l'amministrazione di queste cose se ne deve rendere conto questo hanno richiesto gli abitanti per esempio di questo territorio come per esempio i serbatoi mai puliti come per esempio la possibilità di non avere sempre l'acqua a disposizione ecco finito il tempo ne parleremo c'era il discorso dell'ambiente il gas l'ambiente allora intanto c'erano poi i 30 secondi della replica De Donatis quindi il tema proposto Acea nuove atto del gas gestione dei rifiuti due minuti ma Acea sicuramente è una problematica che emerge negli ultimi anni in maniera sempre più evidente perché il gestore ha dato dimostrazione di non aver rispettato la convenzione in che senso non ha fatto quelle infrastrutture che aveva promesso sul territorio questo è il primo elemento che chiaramente fonda un'azione da parte dell'amministrazione di tutela dei cittadini che non possono sicuramente assistere al fatto che fogne scaricano direttamente all'interno dei corsi fluviali come nel caso dell'Iri nel tratto cittadino del centro urbano o come anche nel caso di Carnello col Fibreno queste sono opere che determinano sicuramente un rischio anche ambientale per la città di Sora per il territorio intero e questa è una situazione che riguarda tutta la provincia di Frosinone per cui noi riteniamo che sia arrivato il momento di prendere posizione in merito a questa vicenda perché ogni volta che un contratto non viene rispettato bisogna esprimere una posizione chiara il prossimo consiglio comunale dovrà sicuramente dire con una delibera insieme a tutti gli altri sindaci e comuni che riterranno doveroso seguire questa strada dovranno assolutamente riprendere posizione per la risoluzione contrattuale nelle more di un iter burocratico e sappiamo tutti che sarà molto lungo bisogna affermare con forza la necessità però di rendere cogenti tutte le condizioni previste dal contratto e quindi la realizzazione di queste benedette infrastrutture che mai sono state realizzate questi sono due passaggi che in sostanza anche in consiglio comunale abbiamo già affrontato ma che sicuramente bisogna portare avanti ancora con maggior forza perché è una situazione che determina tra l'altro poi delle bollette care a fronte di un servizio che non è all'altezza per quanto riguarda gestione di rifiuti parliamo di ambiente noi siamo convinti che bisogna estendere ancora di più i servizi che la società gestisce in modo particolare pensiamo alla bonifica dei siti inguinati che si trovano in maniera diffusa lungo anche soprattutto i corsi fluviali e pensiamo anche al ripristino delle situazioni di rischio di idrogeologico soprattutto nei versanti collinari dove zona R4 grazie Pintori due minuti per dirci la sua posizione su Acea nuoveato del gas e gestione dei rifiuti ma per quanto riguarda Acea noi abbiamo parlato tante volte con i Sorani noi faremo quello che ci chiedono i Sorani cioè i Sorani non sono contenti di come viene gestita l'acqua e chiedono a gran voce la risoluzione del contratto ecco e da questo punto di vista proprio stamattina ho avuto un incontro con gli altri candidati del movimento in provincia se eletti in tutti i 5 comuni rappresenteremo oltre il 20% della popolazione e porteremo una posizione univoca in conferenza dei sindaci perché c'è da ricordare una cosa che c'è una convenzione in atto da una parte abbiamo Acea che fa valere i suoi diritti da un'altra parte abbiamo l'Ato cioè i sindaci che dovrebbero far valere i diritti dei cittadini però come si vede ci sono zone di Sora che l'acqua ce l'hanno razionata soprattutto in estate altre dove l'acqua non copre le 24 ore sono problemi che poi la gente sente soprattutto quando poi arriva la bolletta e che bolletta e i Sorani questo ce l'hanno sempre sottolineato ci sono Sorani che si vedono arrivare bollette di migliaia di euro e non sanno come pagarle noi dobbiamo dare risposte a questi cittadini e quindi sull'acqua sicuramente noi sosterremo la posizione della risoluzione contrattuale per quanto riguarda l'Ato del gas in provincia di Frosinone saranno due quindi più piccole rispetto al lato 5 però ovviamente l'esperienza maturata in questi anni con lato 5 porterà a tenere alta la guardia e a evitare che si possano verificare i problemi che si sono verificati diciamo nella convenzione con il gestore idrico per quanto riguarda i rifiuti per quanto riguarda i rifiuti noi siamo per rifiuti zero e quindi per applicare una politica di rifiuti simile al comune di Capanni per quanto riguarda l'ambiente sur necessita di un serio piano industriale perché è una società che in 17 anni è la terza ricapitalizzazione grazie due minuti su questi argomenti per il candidato sindaco Bruno Lapietra allora trattare il tema dell'acqua con una lettura squisitamente tecnica contabile è l'errore fondamentale che si è commesso in questi anni in Italia l'acqua è un bene pubblico esiste un un referendum rispetto al quale i cittadini italiani non i sorani hanno detto chiaramente che l'acqua doveva tornare pubblica perché perché il compito della politica non è far quadrare i conti questa è una visione materialistica tecnicistica dello stare insieme dell'essere collettività che non ha nessun senso reale perché la politica deve coniugare i conti con l'armonia e la serenità del proprio popolo se questo non accade la politica deve trovare risposte e applicare come ho detto prima attraverso la risoluzione del contratto una nuova gestione che applichi tariffe sociali non i numeri non i costi che poi fra l'altro come è stato già messo ampiamente in mostra si dimostrano anche inadempienti nelle loro funzioni caro sindaco i lavori dei contratti di quartiere sono bloccati perché Acea non mette i tubi a posto tu questo lo devi confermare intellettualmente ti riconosco questa onestà le difficoltà che abbiamo trovato per terminare dei lavori risiedono proprio in questa incapacità di Acea di voler rispettare il contratto di investimento infrastrutturale per quello che riguarda poi il resto delle energie una parola soltanto per il PSR che viene visto come un canale finanziario all'interno del quale farà arrivare finanziamenti a pioggia sulle imprese e le attività non è così il PSR è una visione del territorio è una ridefinizione programmatica occupazionale ambientale del territorio all'interno del PSR ci sono finanziamenti cospicui che danno organicità di intervento anche sulla questione energetica soprattutto sulla questione energetica che deve essere legata al mondo agricolo al mondo ambientale e al mondo occupazionale quindi in quell'ambito finanziario che poi è il vero problema di ogni progetto deve risiedere la soluzione per il progetto del gas grazie due minuti per Ernesto Tersigni per parlarci di acqua gas e rifiuti prego l'acqua io credo che non esista in provincia di Frosinone un solo cittadino contento della situazione lo sappiamo tutti quanti i sindaci però ripercorriamo un po' la cosa nel 2003 il comune di Sola non aderì all'ACEA fu mandato un commissario nel 2003 che dovemmo pagare e ci impose di aderire a questa alla gestione di ACEA dopo sono succedute tante altre cose ma forse De Donatis lo sa meglio di me lui nel 2010 forse ci vuole raccontare che è successo a Frosinone in una conferenza di sintaci quando alla DACEA furono regalati 10 milioni di Euro regalati in cambio di qualche cosuccia per quanto riguarda poi ma lui ce lo potrà dire poi perché se è onesto intellettualmente ce lo potrà dire perché lui le sa queste cose l'ambiente parlavamo prima fra noi ti ricordi prima della trasmissione l'ambiente l'ambiente è inattivo perché abbiamo cambiato il Presidente è un Presidente unico che non è quello che hanno votato loro De Donatis cioè un Presidente ambiente che si erano equerelati soltanto per la questione politica poi si vota quel Presidente dell'ambiente che noi abbiamo denunciato naturalmente per un tentativo di corruzione e vedremo come va a finire questa storia però risparmiamo 120 mila Euro al mese e abbiamo raggiunto il 70% di differenziata io faccio complimenti agli operai perché lavorano veramente tantissimo con un alto senso di responsabilità il gas come diceva Bintori perché nessuno degli altri ha parlato del gas perché secondo me non conoscono nemmeno il problema ci sono due ato una è Frosinone l'altra ci sono altri 54 comuni Sora si era proposta come ente capofila naturalmente c'era il competitor di Cassino abbiamo quindi fatto da buoni amici abbiamo delegato tutta la provincia che è il centro quindi Cialacuc praticamente il centro unico di committenza e abbiamo fatto un'operazione in modo che anche quest'ato nasce sotto un buon auspicio e non sarà come Acea naturalmente bisogna tenere gli occhi aperti bisogna tenere gli occhi aperti io non ho parlato con l'esperienza non ho parlato mi legge nel pensiero non è questa la trasmissione due minuti per Vitale su questi argomenti Annova su questi argomenti c'è molta conflittualità fra quello che è stato e quello che sarà e quello che dovrebbe essere in realtà Acea Ato 5 la vicenda di Acea Ato 5 ci dimostra che bisogna imparare da ciò che è stato prima di tutto il rispetto dei contratti se finora l'Acea ha potuto fare quello che voleva è perché non ci sono stati i controlli sui contratti qualcuno ha sbagliato l'Acea si ha molto approfittato delle norme del contratto per incamerare soldi a scavito dei cittadini quindi se dovrà essere costituito un Ato per in gas occorrerà che l'esperienza di Acea Ato 5 sia da guida su una costituzione di questo Ato 5 quindi andare a vedere esattamente cosa dicono i contratti quali saranno le penalità quali saranno i doveri quali saranno i tempi di attuazione di questi contratti per quanto riguarda la parte rifiuti la società l'ambiente attualmente sta facendo un ottimo lavoro con molto impegno da parte degli operatori che stanno lavorando aspettiamo di vedere effettivamente a fine anno quali saranno in consuntivo rispetto all'anno precedente dove la società è stato necessario rifinanziarlo e vedere alla fine quali saranno in consuntivo economico alla fine dell'anno e quindi vedere se l'azione del nuovo Presidente è stata efficiente ed efficace e quindi i cittadini slovani potranno risparmiare su quella bonnetta dei rifiuti grazie a questo punto parte il giro di repliche 30 secondi di replica vinci guerra gestione rifiuti ha parlato prima Fabrizio di Capannoli ma gli esempi sono tantissimi anche qua vicino nella provincia di Salerno ci sono mercato San Severino ci sono tanti comuni che sono veramente molto 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 diciamo green molto molto verdi ma la cosa più importante è questa dal differenziato che per fortuna oggi 70 60 si deve passare a riciclo e si deve passare a riuso questo si fa attraverso la formazione educativa che si deve iniziare nelle scuole questo è mancato ancora una volta l'amministrazione è carente nella informazione grazie 30 secondi per la replica di De Donatis delle allusioni che questo sindaco pone all'attenzione della città ormai siamo tutti abituati allusioni anche di una certa gravità per cui lo invito come sempre fa lui ad andare dove di dovere qualora dovesse ritenere vere le sue sempre enormi falsità ma che lui sia un bugiardo lo sa tutta la città di Sora considerato anche l'accordo che ha portato a termine con Enzo Di Stefano dopo essere arrivati alle mani nella campagna vergognosa elettorale del 2011 e come il comportamento successivo fino al novembre del 2015 nemmeno troppo tempo fa grazie 30 secondi per la replica di Pintori c'è poco da aggiungere noi siamo chiari risoluzione del contratto con Acea è avanti per questa strada e faremo squadra con tutti gli altri che sostengono questa posizione detto questo come ho detto prima ribadisco l'esperienza del lato 5 servirà anche per quanto riguarda lato per il gas che dovrebbe chiamarsi Atem 2 per quanto riguarda la zona di Sora quindi anche lì massima attenzione e massima vigilanza per quanto riguarda i rifiuti i rifiuti dobbiamo trasformarli in una risorsa per pagare meno tari grazie 30 secondi di replica per la pietra allora problema acqua è evidente la risoluzione è l'obbligo essenziale fondamentale improcrastinabile per quello che riguarda i rifiuti ricordo al nostro sindaco che la differenziata comincia con la mia gestione e l'assessorato all'ambiente con un 19% di differenziazione già attuata sono stato felice che voi abbiate continuato su quel percorso il rifiuto deve diventare una risorsa perché così è nei paesi civili quindi attiviamoci affinché questo diventi un momento di felicità per il cittadino e non di sporcizia per la città 30 secondi la replica di Ernesto Tersigni allora la formazione da cui faceva riferimento Vinci Guerra è stata fatta che dobbiamo fare abbiamo portato tutti i ragazzi delle varie scuole nell'auditorium Cesare Barone e abbiamo fornito dei calendari delle brochure da portare in famiglia e quindi è stata fatta abbiamo avuto un finanziamento di 36 mila euro regionale e l'abbiamo speso in questo modo anche io sono d'accordo per la risoluzione anche se la vedo difficile per la CEA comunque sarà battaglia dura con la CEA anche perché non si sta comportando per niente e bene con tutti i cittadini a distanza di anni ci stiamo rendendo conto questo ma non è che abbiamo perso anni senza niente ci abbiamo provato in tutti i modi grazie 30 secondi per Vitale io credo che ormai Sova non abbia più bisogno di queste diatribe fra chi c'è stato e chi ci sarà ma ha bisogno che tutti quanti ci mettiamo insieme per risolvere i problemi e trovare le soluzioni affinché i cittadini sovani ricevano dei benefici e non degli aggravi benissimo e a questo punto partiamo con l'ultimo giro di domande ospedale zone economia speciale o zone franche urbane rapporti con gli enti sovraccomunali vi proponiamo questo tema un minuto per parlare di questo 30 secondi per le repliche poi ci sarà l'ultimo giro che sarà quello dell'appello al voto un minuto per parlarci di ospedale zone ad economia speciale relazione con gli altri enti sovraccomunali comincia De Donatis per quanto riguarda la sanità tutti sappiamo che è un problema che riguarda soprattutto una gestione che appartiene alla regione Lazio sappiamo anche che il tanto decantato sblocco del turnover promesso da Zingaretti purtroppo ancora non produce effetti nonostante le battaglie condotte da tutti coloro che se ne sono occupati abbiamo qui il candidato Vinci Guerra che ne è testimone ma è senz'altro un problema che rivela in maniera drastica in maniera assolutamente grave la mancanza di rappresentatività adeguata della nostra città del nostro territorio rispetto a un problema che è allocato in regione oggi noi viviamo una crisi dei partiti che è anche la causa della nostra proposta civica e la dimostrazione sta proprio qui abbiamo un PD al governo della città che non riesce a produrre azioni significative in ambito sanità questa è una cosa assolutamente ormai evidente ci sono ci sono carenze che strutturali alle quali non si riesce a porre rimedi un minuto su questi temi per pintori sì per quanto riguarda la sanità un sindaco non ha particolari poteri sulla sanità se non quello di intervenire in conferenza dei sindaci in serie di approvazione dell'atto nel lungo iter di approvazione dell'atto aziendale detto questo noi abbiamo difeso strenuamente l'ospedale tant'è che abbiamo fatto fare due interrogazioni regionali una mozione regionale e infine ad atto aziendale ormai approvato l'unica strada percorribile era quella del ricorso e ricorso abbiamo fatto ricorso al Presidente della Repubblica che è equiparabile ad un ricorso al Tarni nei confronti dell'atto aziendale perché io vi ricordo bene che il 13 novembre del 2014 ero intervenuto come semplice cittadino in conferenza dei sindaci a Frosinone e ho messo in guardia i sindaci sui tagli che erano previsti nell'atto aziendale e quindi noi voglio dire per quanto riguarda la sanità continueremo a lottare per difendere non solo l'ospedale ma anche il distretto grazie risparmiamo 5 secondi la pietra un minuto su questi argomenti i rapporti tra il mondo della sanità le strutture sovracomunali sono difficili da gestire va riconosciuta l'impotenza dell'organo amministrativo locale tante sono state le battaglie tante le persone che si sono impegnate tanti gli amministratori che fanno parte della macchina municipale da sempre che lavorano nella sanità con nessun risultato portato a casa praticamente io voglio essere alternativo rispetto a questa visione delle problematiche da affrontare nella sanità in che senso ci sono difficoltà di finanziamento la regione ha i suoi vincoli di bilancio deve cercare di ottimizzare ma vogliamo dire una cosa ai nostri cari cittadini che la sanità è un buco nero di sperpero di corruzione di malissima di malorganizzata gestione che andrebbe ripensata anche una pianta organica funzionale alle esigenze dei cittadini e non soltanto al godimento degli impiegati della struttura sanitaria grazie grazie era un minuto solo un minuto per Tersigni Tersigni io ricordo che ho fatto uno sciopero ho avuto la capacità di mettere vicino a me 27 sindici al distretto ho fatto uno sciopero della fame per 6 giorni c'era soltanto Vinci Guerra con me posso essere onestamente gli ultimi 2 o 3 giorni però gli altri non ho visto nessuno tranne qualche sporadica visita così quando si va al funerale al morte si dà l'acqua santa e se se ne va anche perché lì bisognava veramente avere gradito che qualcun altro dei amministratori venisse lì forse De Donadis non so nemmeno se l'ho visto però ce lo dirà lui se è venuto per quanto riguarda il distretto Vinci Guerra oggi ho letto il suo programma parlava della chiusura del distretto il distretto verrà riaperto è stata spredata la gara verrà ristrutturata l'ala dei ambulatori e verrà riaperta quindi nel mese possibilmente di maggio di maggio grazie un minuto su questi argomenti per Vitale questi tre argomenti hanno evidenziato essenzialmente due fang dell'organizzazione cioè manca in questo momento da parte anche della regione in particolare su un ospedale di Sova in realtà una vera pianificazione e una vera progettazione su quelle che sono le esigenze del territorio in particolare non vengono sfruttate alcune potenzialità dell'ospedale di Sova mentre invece ogni cosa che dice la regione tagliamo i posti netto mentre invece chiudendo un ospedale la cosa che ci sarà sarà semplicemente quella di allungare le code negli altri ospedali quindi mancanza di progettualità e di pianificazione negli interventi nei vari ospedali e sui distretti necessari per quanto riguarda il distretto adesso qualcuno mi dovrà spiegare perché sono stati spostati gli ambulatori a destra e a sinistra forse solo per giustificare le aperture di case diciamo così della salute o altre cose che sono state spese per fondi ricevuti e che non sapevano come mettermi in campo grazie grazie a lei un minuto su questo argomento per il dottor Vinci Guerra l'ospedale è una risorsa per Sora ma principalmente è un posto dove si produce salute si produce dell'ottima salute mi dispiace se qualcuno ha detto qua dentro che la sanità è un buco nero la sanità è un buco nero da Roma in su non è un buco nero da Frosinone a venire qua a Sora abbiamo il polo oncologico certo ci sono mancate tante persone ci sono mancate tante figure professionali tutti si sacrificano tutti lavorano allo spasmo alla fine veramente di tutto il tempo che hanno a disposizione certo abbiamo avuto delle difficoltà con Ernesto abbiamo fatto lo sciopero la cosa importante abbiamo sbloccato una situazione si parlavano di 7 medici per tutta la ASL noi sono arrivati 30 per tutta la ASL forse qualcosa ha detto è mancata la politica perché Sora non ha personaggi politici che ci rappresentano degnamente alla regione chi l'ha fatto l'ha fatto per il proprio conto qui posso essere d'accordo sul buco nero grazie 30 secondi di repliche comincia De Donatis sì diciamo che le manifestazioni alle quali al di là della presenza io ho visto sempre trasversale perché la sanità è di tutti la sanità è pubblica non è di nessuno quindi non è un motivo politico per fare su questo tema così delicato strumentali demagogie io ritengo che il problema ancora più serio si manifesta in tutto ciò che riguarda gli enti sovracomuniali che dimostrano come sempre una carenza di personaggi di rappresentanti nelle istituzioni che siano all'altezza delle gravi problematiche ma soprattutto di una storia di una tradizione come quella di un territorio che ha Sora come suo baricentro grazie 30 secondi per la replica di Pintori ma la replica molto breve non c'è bisogno di un rappresentante di Sora della città di Sora in regione noi abbiamo i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che sono delle persone molto valide e quelli che hanno fatto le interrogazioni regionali sono uno di Ostia Varillari e l'altro di Cittavecchia Porrello quindi voglio dire come ha detto bene qualcuno prima di me la sanità non ha colore politico noi stessi avevamo fatto un comitato civico poi siamo stati tra i fondatori del coordinamento provinciale sanità proprio per cercare di tutelare le istituzioni sanitarie locali che subiscono la presenza di Roma grazie 30 secondi per la pietra io continuo a voler evidenziare un fatto che bisogna affrontare il tema della sanità in maniera molto molto pratica vorrei invitare i candidati a sindaco amici a focalizzare per esempio l'intervento sul pronto soccorso dell'ospedale che è veramente la frontiera di ingresso e che è l'elemento che poi disturba più di tutti i cittadini cerchiamo di avere degli obiettivi minimi da raggiungere in breve tempo perché solo così riusciremo con facilità a risolvere il problema della sanità la replica di Ernesto Tersigni più che una replica è la continuazione del discorso che facevo prima io faccio quello che fa ogni sindaco specialmente i sindaci dove c'è l'ospedale delle città dove c'è l'ospedale contatto diretto con il commissario in questo caso ma prima con il presidente e poi volevo soltanto dire a tutti che verrà aperto i primi di giugno a sora l'ambufest l'ambufest è un ambulatorio che è aperto dalle 10 alle 19 tutti i giorni e si farà soltanto a Frosinone Cassini e Sora quindi da giugno avremo al distretto questa ambufest grazie 30 secondi per Vitale niente dobbiamo semplicemente se dobbiamo lavorare per salvare la sanità o comunque per trovare delle soluzioni lavorare tutti insieme senza scontrarci su questi argomenti perché sono argomenti che servono al cittadino e ognuno di noi deve metterci la faccia per poter dare possibilità al cittadino di essere centro dell'azione e non un margine all'azione grazie 30 secondi per la replica del dottor Vinci Guerra l'ospedale di Sora rappresenta una grande opportunità un'opportunità per i cittadini che devono ricevere salute un'opportunità anche per i lavoratori ma può diventare anche un'opportunità anche in questo caso di scolarità di formazione l'università è importante Sora potrebbe diventare anche in questo caso non un polo universitario ma una possibilità di lavoro per tanti colleghi specializzanti tanti infermieri che possono specializzarsi su delle priorità la rianimazione il polo oncologico l'ortopedia tante sono le specialità veramente ottime che nell'ospedale ne ho dimenticato alcune ma sono veramente tutte a un ottimo livello grazie e adesso siamo al minuto finale l'appello al voto votatemi come sindaco perché un minuto per il candidato sindaco Fabrizio Pintori ma innanzitutto diciamo che i Sorani devono vedere nel Movimento 5 Stelle un insieme di cittadini un gruppo di persone che ha lavorato in questi anni duramente sul territorio e rappresentano io dico sempre un'affermata novità perché a Sora è la seconda volta che il Movimento 5 Stelle si presenta le elezioni per quanto riguarda il Movimento quindi propone il cambiamento che posso anche capire il cambiamento può far paura ma a me fa più paura continuare così Sora negli ultimi 20-30 anni è stata amministrata da le persone qui presenti eccetto Vitale e i risultati sono sotto gli occhi di tutti sono tutte persone che godono della mia stima però francamente loro rappresentano la vecchia politica se si vuol cambiare bisogna voltare pagina e l'occasione giusta è il Movimento 5 Stelle grazie il minuto per l'appello al voto del candidato sindaco Bruno Lapietra io dico che un po' sono preoccupato perché credevo in questa tornata elettorale di di candidarmi all'elezione invece ho scoperto di giocare a nascondino tante liste si sono camuffate attuando un meccanismo perverso di mistificazione cercando consensi al di là dell'appartenenza come se essere di una parte politica fosse un qualche cosa che riducesse la proposta amministrativa io sono convinto che questo gioco che trovo perverso che trovo scorretto nei confronti dei cittadini non porterà bene a chiunque lo ha attuato perché perché essere di sinistra e di destra non è antimoderno non è non è negativo essere trasversale significa mantenere l'identità e dialogare con civiltà con educazione e con rispetto anche per gli altri ma annullare le proprie identità semplicemente sperando di avere qualche voto in più è una cosa che i cittadini solani capiranno e che non perdoneranno grazie grazie l'appello al voto del candidato sindaco Ernesto Tersigni io ai miei concittadini non chiedo un voto sulla fiducia non chiedo un voto sulle promesse elettorali io chiedo soltanto ai miei concittadini di fare una riflessione se è il caso di ripotare Ernesto Tersigni in base a quelle cose che ha fatto alla concretezza del suo programma io ricordo a tutti che io non ho mai preso l'intendità la mia intendità da sindaco e l'ho devoluta al verde della città 800 piante messe con i soldi che sarebbero aspettati a me naturalmente io dico ai miei concittadini è il momento della scelta la scelta fra chi ha fatto qualcosa di concreto o chi si è sempre lamentato o chi ha fatto per 5 anni soltanto il distruttore totale quindi chiedo a tutti di votare Ernesto Tersigni sindaco di scegliere fra i 96 candidati delle mie liste dove ci sono presenti ben 48 donne quindi scegliere la persona più indicata secondo il cittadino e quindi votare Ernesto Tersigni con l'adeguato consigliere comunale grazie il minuto di appello al voto per il candidato sindaco Antonio Vitale grazie noi del movimento noi con Sangvini siamo nuovi del territorio ci presentiamo da soli perché perché noi vogliamo dimenticare quello che è stato nel senso che il nostro programma sarà di realtà trasparenza e onestà con gli elettori e non guarderemo a ciò che è stato o ciò che è successo ma guarderemo avanti per risolvere i problemi di sola assumendoci la responsabilità di poter riparare eventualmente ciò che di sbagliato può esserci può esserci stato per cui noi chiediamo un voto per l'innovazione un voto per andare avanti e guardare avanti rispetto a quella che è stata una politica di questa città grazie il minuto di appello al voto per il candidato sindaco di Sora Augusto Vinci Guerra di nuovo grazie le nostre tre liste si sono così ce le siamo inventate ma con l'arrivo di persone totalmente che non non avevano mai partecipato al lagone politico solo io e non rinnego il mio passato segretario di un partito politico e alla fine con un tentativo anche di raccogliere intorno a me quello che poteva essere l'anima che a Sora poteva ancora nascere e che purtroppo a Sora è morta la politica vedremo nei prossimi mesi che cosa succederà insieme si può camminiamo insieme cambiamo insieme chiama Sora vince vuol parlare di trasparenza per ridare fiducia ai cittadini vuol parlare di efficienza per ridare una razionalità e una vera efficienza a quella che è la macchina amministrativa di partecipare e di innovare ecco la nostra cosa è l'assessorato all'innovazione grazie il minuto di appello al voto per il candidato sindaco Roberto De Donatis noi crediamo fermamente di aver ricevuto in questi cinque anni di opposizione nei quali abbiamo visto di tutto abbiamo visto che un cerchio magico che gira intorno a questo sindaco ha vissuto di prebende e ha realizzato in effetti una situazione estremamente disastrosa nel resto della città chiuso il tribunale squadra di calcio scomparsa negozi chiusi dappertutto una situazione veramente asfalto distrutto e macerato dappertutto abbiamo veramente vissuto una situazione di grave emergenza quindi riteniamo che è giunto il momento di spogliarsi ognuno delle proprie appartenenze e di mettere in piedi una squadra di salute pubblica un vero e proprio governo che dia alla città la sensazione chiara e netta che questa volta si cambia e si cambia davvero grazie grazie per avere reso così chiaramente il vostro pensiero di aver fatto emergere le differenze che ci sono tra i vari programmi grazie a voi a casa per averci seguito vi lasciamo con spazio libero Fabio Cortina ospita Antonello Iannarilli a porte aperte torna tra una settimana stessa ora stessa rete continueremo a parlare di elezioni comunali parleremo di Alatri nel frattempo buona campagna elettorale e buon voto a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti